Un ospedale pronto al decollo non solo dal punto di vista dell'eccellenza medica ma anche delle infrastrutture. È il Cisanello di Pisa che inaugura l'eli superficie in grado di fornire elevati standard di sicurezza e funzionalità e di accogliere anche velivoli di grandi dimensioni. Una tappa importante nell'avanzamento dei lavori dell'ospedale Nuovo Santa Chiara a Cisanello ha sottolineato il presidente della regione Eugenio Giani accompagnato all'inaugurazione dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e da tutte le autorità civili e militari. È con il Pegaso che si vola sui cieli della Toscana e questo accade nelle montagne, accade nei luoghi in cui scatta un incendio o arriva a una situazione d'emergenza. Quindi la rete degli eliporti è fondamentale. Il fatto che Cisanello è il nuovo centro ospedaliero medico d'eccellenza su cui la regione ha investito a Pisa. Qui non ci sono fondi del PNR, ci sono soldi che il bilancio regionale ha previsto. Possa avere il suo eliporto d'avanguardia ed eccellenza. È qualcosa che rappresenta il segno che Cisanello sta diventando un riferimento per la Toscana. Quindi protezione civile, emergenza del 118 da un punto di vista sanitario, possibilità di accesso a quelle che sono le più alte cure e specializzazioni che Cisanello offre su cui occorre intervenire da tutta Italia con emergenza. Tutto questo è l'eliporto. Io oggi sono contento perché nel momento in cui i giornali e le televisioni giustamente sono dominati da quello che è l'aspetto umanitario che riguarda l'Ucraina, ecco questo segno di speranza verso i diritti alla salute e i servizi per la salute del cittadino che rappresenta questo eliporto è una speranza per tutto il paese che viene dalla Toscana.